Ho incontrato qualche tempo fa una neolaureata che mi ha detto io per trovare lavoro ho mandato 227 curriculum. Le poche risposte che sono arrivate, perché poi tanti non hanno risposto, le poche risposte che sono arrivate erano essenzialmente delle offerte di stage gratuito. Vogliamo abolire gli stage gratuiti perché con gli stage gratuiti non ci paghi un affitto, è diventato l'unico modo di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani ed è una nuova forma di servitù.